Ciao creatora, oggi sto facendo un quiz over perchè ho dei nuovi vicini e come puoi ben capire comunque ho il kit di Tiger della Mummia che avete votato su Instagram avevo fatto un sondaggio dicendo se volevate quello della Mummia oppure quello dei cristalli, delle pietre e avete votato la Mummia, quindi per grande gioia di Tokyo Berry andiamo a scoprire quale delle tre Mummie troveremo oggi dividerò il video in due parti, in questo farò più veloce degli altri quattro video che avevo fatto perchè sennò penso che sia anche noioso e farò anche dei suoni in voice over durante il grattugiamento di questo reperto antichissimo e preciatissimo comprato a 2 euro o 3 euro al Tiger per rendere il video molto più rilassante comunque qui vediamo i tipi di Mummia che possiamo trovare, io ovviamente vorrei questo con il gatto però va bene qualsiasi perchè ho comprato a Genova e quindi è un bel ricordo e qualsiasi cosa troverò sarà ben accetta e quindi qua stavo cercando di leggere il retro della confezione che non trovavo adesso trovo kit di scavo, il kit contiene una Mummia tra tre disponibili, quale troverai tu? le istruzioni sono contenute nella scatola, ecco quindi qui facevo un po' di tapping sotto puoi notare che c'è il dappleon del Lidl che l'ho messo per proteggere il tavolo da tutto il gesso che... tutta la polvere, quello che... insomma che grattuggerò dalla Mummia, ecco mezz'ora per spiegare una roba semplicissima poi qui ti stavo mostrando gli strumenti, c'è un pennellino, uno scarpello e un... il martelletto che... il martelletto non ho utilizzato perchè faceva troppo casino e non mi sembrava il caso in un video smr sai com'è? dovrebbe rilassare e non martellare la testa della gente e ci sono molti tagli anche nel video perchè è oltre ai vicini il rumore era troppo fastidioso secondo le mie orecchie dal mio punto di vista quindi dato che deve essere un video rilassante e allora ho ottenuto le parti quelle più secondo me carine, adatte comunque quello è il blocco di... credo sia gesso poi ho fatto dei suoni però adesso non ce l'ho qui a portata di mano perchè l'ho già grattugiato quasi tutto quindi io la Hecate splendente del futuro sa... conosce quale Mummia abbiamo trovato ma non lo spoilererò forse più avanti nella visione del video potrei dire qualcosa ma anche no comunque quello è il blog, li faccio tutti i suoni e qui inizio già a grattugiare e quindi fa... ti sto doppiando praticamente un video ASMR mio che bello se vi piace l'idea potrei doppiare altri video si non fa proprio questo suono ma... ma si dai accettalo ti prego se ti piacciono i voice over fammelo sapere che potrei fare sai cosa volevo fare? un video tipo... ecco qui provavo il martelletto però ho detto... ma anche no perché meglio di no volevo fare un video dove mi truccavo e cercavo di fare un pseudo trucco o dita fantasma, non lo so, horror e potrei farlo però con tipo il voice over dove mi autocommento se vuoi se ti piace la mia voce così al di fuori del video potrei autocommentare quindi verrebbe alla fine perché ovvio verrà così verrà un video ASMR però divertente perché io dopo magari sono visto che sono molto autocritica e mi prendo in giro da ironica perché mi prendo in giro da sola poi verrebbe una cosa divertente perché io vorrei tantissimo fare i videoserie di super mega professionali come fanno gli altri ma non ci riesco proprio è nella mia natura fallire no falliremo è nella mia natura fare cose ironiche scherzolce rilassarsi però sempre con un pizzico di allegria e non troppa serietà che forse non va neanche bene non lo so, fammi sapere, fatemi sapere nei commenti se vi piace forse io immagino di no perché sennò avrete già grandi numeri perché c'è gente che ha tipo iniziato insieme a me o un po' prima di me e ha già grandi numeri a parte che alcune persone collaborano con chiunque allora per forza io invece come al solito lupo solitario vorrei in realtà vorrei fare delle collaborazioni però non lo so mi sento sempre così a chiedere che ti spiegerebbe un rifiuto oppure non lo so in realtà ho qualche occasione per chiederlo qui che vergognosa la Tokyo BR bello che ci sentiamo privatamente in direct però io sono sempre un po' così tipo non so mai cosa dire ho sempre paura di disturbare no? e quindi ho delle mie risposte un po' così un po' fredde forse non lo so però mi dispiace in realtà vorrei essere più amichevole perché mi piace come persona volevo chiedere una collaborazione però in realtà non ho proprio idea di perché sai lei è super professionale perché nonostante lei forse non lo pensi di se stessa ma ha la luce super figa ha il microfono super figo ma gli sfondi figi io non ho un cacchio ehm non ho le luci non ho lo sfondo si ho un bellissimo bosco a parte quello non ho nient'altro io che potrei dire ah verrà un video bellissimo non ho neanche la qualità super eccelsa perché perché ho la connessione troppo lenta e non riuscire a caricare i video cioè lo dico proprio le cose come stanno così quindi fatemi sapere se avete qualche idea di collaborazioni che potrei fare con chi cosa quale tipologia di video e e niente anche tutto che ho ben arrivati avanti sono schifo cioè no però ecco non riesco a fare i video professionali super make up power ultra serie e tipo dormi 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 qua per esempio mi ero pensata che volevo fare dei suoni qualsiasi altra cosa di tutto ciò che sto facendo in realtà però mi sono persa in chiacchiere però so che a voi piace quando io mi perdo in chiacchiere beh non a tutti però qualcuno di voi si quindi magari sto facendo bene io lo so io faccio del mio meglio se poi non è il meglio ho pazienza però io almeno voglio avere la coscienza pulita perché lo so che più di così non so voi anche se mi sto impegnando al massimo per darvi sempre nuove emozioni no schia per farvi rilassare al meglio ma dai anche io piano piano ce la farò magari c'è chi lì c'è subito che ho tutto super figo subito c'è chi ci mette un po' però magari ci arrivo anch'io con calma e qua facevo giu 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 ah no mentre via qua dovresti sentire qualche suono perché in teoria l'ho lasciato eh però vabbè dettagli eh ma è un'ospirazione riuscita benissimo no dai basta con discorsi adesso parliamo di questo fantastico video e quindi chissà che cosa troveremo sarà la mummia gatto o sarà non mi ricordo le note aspetta che guarda o sarà la mummia bocchini è questa tutta avvolta nelle pende composta o sarà la mummia eh tipo quella del film che poi è maledetta e si libera e va in giro per il mondo a a togliere occhi e mimbra no vabbè non è molto rilassante questo video aspetta cambiamo un discorso diciamo quella mummia divertente di Halloween con tutte le pende rilassante rilassante la mummia rilassante con tutte le pende sciolte sarà quella ma io sto ancora sperando che sia quella a gatto e tu lo so che vuoi quella a gatto e niente posso solo dire questo piccolo spoiler che tanto non ti cambierà nulla penso che ho scelto il lato giusto per la prima volta in tutta la mia vita ho scelto il lato giusto dove grattugiare perché potevo grattugiare 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 potevo grattugiare eh al centro a destra a sinistra e e invece e non beccare niente potevo anche grattugiarlo tutto però eh ci vorrei cioè insomma venivamo un video lungo eoni grazie a non so quale potere spirituale e o il grande demone celeste sono riuscita a grattugiare il lato dove praticamente era stata collocata la mummia casualmente casualmente la mummia era stata senza saperlo ovviamente e quindi qui bugliesco un po' il tavolo che si era formato troppo troppa polvere e credo che sia gesso ma non ne sono certa e comunque vado a grattugiare no adesso ti mostro qua vedi ho grattato il lato giusto e sinistra vedi una mummia poi qua il sole stava passano le ore no? e il sole già stava cambiando posizione io mi ritrovo nell'ombra vabbè e non me ne ero accorta perché totalmente concentrata nella nello scafo che non me ne sono accorta e vabbè qua ancora spazzolo bene con il mio pennello tanto avrei sentito il suono è la parte più piacevole del video secondo me quando spennello e niente qui ero molto curioso quindi grattugia tutta la grattugia col mio scapello per scoprire quali mummia ho trovato poi cerco anche di romperlo con le dita così un pezzo viene via un bel pezzettone e si scopre la mano della mummia e adesso in teoria dovrei mostrare se non lo scassavo e poi mi metto al sole scusa mi metto al sole e pulisco un portavolo e sono riuscita anche a rompere il foglio sotto e quindi utilità zero perchè si è spurgato anche il tavolo comunque tanto dopo che era solo polvere è venuto via facilmente e e poi non so perchè ho messo questo ah ah si perchè ho spurgato ho detto no gatto ok mi ricordo perchè si scopre che non è il gatto ma è una delle due mummie delle altre due mummie la seconda parte del video la vedrai più avanti ne scopriremo quale delle altre due mummie ho trovato e adesso chiudi gli occhi dormi creatura dormi dormi ciao creatura dormi